Nome. Gianmarco. Federico. Cognome. Lucchesi. Mori. Soprannome. Giamma. Chico. Ruolo in campo. Tallonatore. Centro. Primo ricordo legato al rugby. Quando ero piccolo, a otto anni, fu mio padre insieme al mio nonno a portarmi la prima volta in allenamento. La prima volta che sono entrato in campo a nove anni con i jeans. Il tuo primo ricordo legato a Federico Mori. Mi ricordo un ragazzino con dei lunghi riccioli biondi che vinceva sempre con prima. Il tuo primo ricordo legato a Gianmarco Lucchesi. La prima partita che abbiamo fatto con la selezione toscana insieme. Cosa rappresenta per te la maglia azzurra? Chiaramente la maglia azzurra è indossarla, è un sogno che si avvera, ma è anche una grande responsabilità perché è un qualcosa che è più importante del giocatore stesso, dell'individuo e quindi è un qualcosa di cui dobbiamo prenderci cura. Bisogna prendersi cura della maglia azzurra perché i giocatori passano e la maglia resta, perciò è sicuramente una cosa da rispettare nel miglior modo possibile. Il tuo sogno nel cassetto? Riuscire ad essere un nome impresso nella storia del rugby. Giocare più partite possibili di rugby internazionali a nonna. C'è qualche obiettivo che vorresti raggiungere insieme a Federico in maglia azzurra? Con Federico abbiamo vissuto tante esperienze insieme, abbiamo esordito insieme il nazionale, quindi spero di poter continuare questo percorso con lui e magari vincere le nostre nazioni. C'è qualche obiettivo che vorresti raggiungere insieme a Gianmarco in maglia azzurra? Giocare più partite possibili con l'Italia insieme. Saluta Federico come si è abituato solitamente. Bello Chico, allora? Saluta Gianmarco nel tuo modo abituale. Bella Gianmarco.